Operai incaricati dalla società Girgenti Acque da qualche giorno sono tornati al lavoro per interventi di rifinitura e di completamento di alcune strade interessate da interventi per la sostituzione della rete idrica comunale Vetusta. La Girgenti Acque ha dato così seguito all'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal comune di Licata, con la quale veniva intimato alla società l'immediato ripristino delle sedi carrabili interessate dall'esecuzione dei lavori di sostituzione della rete idrica a Vetusta. Il tutto entro due giorni dalla notifica dell'ordinanza. Gli operai della ditta incaricata ad eseguire i lavori stanno provvedendo così come impartito dall'ordinanza al ripristino dello strato di finitura e alla definitiva ricostituzione del tappetino di usura di completamento per il risolutivo ripristino della carreggiata stradale. I lavori interessano alcune strade del popoloso Rione Oltreponte, dove nel febbraio scorso hanno avuto inizio i lavori per la sostituzione della rete idrica comunale. Ma le strade da asfaltare sono ancora tante e riguardano diverse zone e vie di Licata che attendono ancora il ripristino della carreggiata stradale, il che ne consegue disagi e problemi notevoli per i residenti che devono fare i conti giornalmente con la polvere. Ma il richiamo del comune dedicato alla dirigente Acque non è certo rimasto disatteso, anche di fronte alle proteste dei cittadini e residenti delle zone interessate dai lavori nelle strade, considerando anche il fatto non meno importante che siamo in pieno periodo estivo e i problemi si accentuano. Ciò che si auspicano i cittadini è che le sedi carrabili siano completate in breve tempo per l'incolumità e la salvaguardia della salute dei residenti.